A vent'anni dal ricepimento della prima direttiva comunitaria, a quarant'anni dall'approvazione della legge 300 del 1970 che ha sancito la nascita dello Statuto dei Lavoratori, Job and Health e Conf Servizi Lazio hanno organizzato alla Facoltà di Architettura di Valle Giulia un convegno intitolato La Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Quali sono gli obiettivi e le finalità di questo convegno? Ma innanzitutto ci sono due obiettivi, uno è più in generale in che modo le istituzioni si rapportano rispetto al fenomeno infortunistico questo la mattina e il pomeriggio invece ha un obiettivo più tecnico di fornire ulteriori approfondimenti a tematiche che riguardano la sicurezza. A che punto è la tutela dei lavoratori a quarant'anni dall'approvazione dello Statuto dei Lavoratori e a vent'anni dall'approvazione della direttiva comunitaria? Beh, è a un punto che io definirei intermedio. Intermedio perché soprattutto in questi ultimi anni cresce molto, è cresciuta molto la sensibilità, la cultura della sicurezza sul lavoro un problema che prima l'aveva percepito solo come riguardanti categorie marginali, particolarmente esposto al rischio è diventato finalmente il problema di tutti perché tutti i vostri lavoratori hanno bisogno di sicurezza. La conferenza è stata un'occasione per discutere dei gravi problemi di sicurezza che ancora oggi si riscontrano in molti luoghi di lavoro. All'incontro erano presenti le maggiori autorità politiche, istituzionali ed economiche. Quali sono le iniziative messe in campo dall'ATAC per la salvaguardia dei lavoratori? Beh, le iniziative messe in campo sono svariate perché l'ATAC è riduce da una fusione di tre aziende che naturalmente avevano caratteristiche diverse, nel senso che Trambus che era quella incaricata del trasporto di superficie, la metro era naturalmente incaricata del trasporto metropolitano e l'ATAC che fungeva dall'agenzia aveva problemi relativi più al settore sostanzialmente impiegatizio. Le misure di sicurezza sono di tipo svariato, vanno dalla sicurezza dei mezzi in sé per sé, che è un fatto fondamentale per quanto riguarda la gomma, alla sicurezza degli autisti. Considerando le grandi opere di cui Roma metropolitana è committente a Roma, quindi linea C, linea B1, prolungamento linea B1, nodo di termini e corridoio Euro-Larentina, siamo assolutamente in prima linea su questo discorso ed è stato affrontato in due modi. Innanzitutto una contrattualistica particolarmente attenta dal punto di vista dei capitolati, dei pieni di sicurezza e sulla valorizzazione dei costi della sicurezza, cioè quegli oneri che vengono riconosciuti agli appaltatori. Molta strada è stata fatta per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Altrettanta strada occorre fare affinché si riducano ulteriormente gli incidenti nei processi produttivi e le malattie causate dal lavoro. I maggiori problemi sono legati soprattutto all'organizzazione del lavoro, nel senso che sicuramente tutto dipende da come viene organizzato il lavoro. Poi nello specifico, nella regione Lazio, abbiamo dei problemi legati soprattutto all'edilizia e all'agricoltura. All'edilizia c'è un problema di come vengono gestiti appalti, l'agricoltura è legato al fatto che spesso e volentieri vengono utilizzati, così come anche nell'edilizia, lavoratori immigrati. A partire dagli anni Sessanta il numero dei morti sul lavoro è andato progressivamente diminuendo. Tuttavia, se tra il 1995 e il 2004 gli infortuni mortali nell'Unione Europea sono diminuiti, in media del 29%, in Italia sono diminuiti solo del 25%. Tra il 1996 e il 1995 l'Italia è risultato il paese con il più alto numero di morti sul lavoro in Europa. Spetta quindi alle istituzioni cercare di trovare una soluzione a questo grave problema. Roma ha un osservatorio che verifica la sicurezza nei luoghi di lavoro dei suoi appalti. Roma è una delle stazioni appaltanti più importanti e più grandi d'Europa. Abbiamo fatto un lavoro di formazione del nostro personale tecnico, dei dipartimenti, dei municipi, delle aziende municipalizzate, attraverso una convenzione con Inail. E proprio in questi giorni è partita una campagna di sensibilizzazione.